Dottoressa, com'è la situazione al Santissima Trinità di Borgomanero? L'ospedale di Borgomanero è arrivato alla sua massima attivazione per il piano di emergenza Covid. Ormai metà dell'ospedale è dedicato a reparti Covid. Abbiamo dovuto incrementare moltissimo i posti letto di rianimazione, aggiungendo ai sei posti altri 21 posti solo dedicati a pazienti Covid. Abbiamo tre piani dell'ospedale che sono dedicati a pazienti Covid di cui uno ricovera pazienti con forme di ventilazione non invasiva e quindi abbiamo ormai praticamente 26 posti di terapia subintensiva. Sia la rianimazione che i tre reparti dedicati sono pieni. Noi riusciamo a mantenere un equilibrio tra le dimissioni e gli arrivi in pronto soccorso che fortunatamente negli ultimi giorni sono leggermente calati, ma siamo ormai arrivati veramente a livello di saturazione delle nostre possibilità di dedicare letti a pazienti Covid. Convertire l'ospedale in questo modo vuol dire purtroppo togliere spazio a pazienti con altre patologie. Noi abbiamo seguito le indicazioni regionali riducendo l'attività operatoria. Infatti questi 21 posti letto di rianimazione sono stati ricavati all'interno del blocco operatorio. Il nostro blocco operatorio è stato quasi interamente chiuso e all'interno delle sale operatorie sono stati posizionati letti di rianimazione per accogliere i pazienti Covid positivi. Abbiamo visto all'esterno del pronto soccorso anche le tende militari. Sì, i militari ci hanno dato questo importante supporto. Il pronto soccorso è la prima struttura di un ospedale che deve essere tenuta libera perché avere il pronto soccorso sovraccarico significa non riuscire più ad accogliere i pazienti in arrivo fino eventualmente anche alla chiusura del pronto soccorso, cosa che altre strutture vicine hanno purtroppo dovuto fare. Le tende sono state un'importante riserva di spazio perché nel momento di sovraffollamento del pronto soccorso esauriti gli spazi interni c'è questa possibilità di alloggiare i pazienti anche all'interno delle tende fornite dall'esercito dandoci quindi un margine in più per poter intervenire su pazienti urgenti.